Sono Giuseppe Maniglia della Maison Maniglia in Monte Sanoscalo, provincia di Salerno. Per il Natale proporremo una serie di cake dal tema natalizio, qui ne ho portato uno cioccolato fondente per un 70% con dei cubetti d'arancio e filetti d'arancio, quindi decorato con dei piccola decorazione in oro. Sono dolci che possono essere trasportati, quindi comprati e mantenuti anche fuori dal frigo per circa due giorni. E' un dolce che può accompagnare benissimamente un fine pranzo oppure durante la giornata con un tè o con qualcos'altro che si voglia. Quindi è un dolce dal gusto molto personale perché è un cioccolato fondente quindi del Perù 70%, però accompagnato con della mandola e con la dolcezza di questi cubetti d'arancio. Vi aspettiamo nella Maison Maniglia per il Natale 2020 e augurandovi a tutti un Buon Natale.